Il Natale ormai si sta avvicinando a grandi passi. Sono già comparsi i primi mercatini natalizi ed i negozi si stanno allestendo a tema e già sono state presentate le iniziative a livello locale e provinciale per le festività prossime venture. Tutte le città ormai sono in modalità Natale già da un po'. Anche il Natale più fanese ha acceso i motori. A giorni farà la sua comparsa in piazza il maestoso abete Vero da 13 metri che riceverà migliaia e migliaia di luci a led e sono anche in arrivo le casete in legno per il mercatino natalizio. Una delle novità di questa edizione sono sicuramente i presepi che compariranno in città ad aggiungere ancor di più atmosfera al clima natalizio. Ma ce n'è uno che sicuramente lascerà bocca aperta a tutti i suoi visitatori per spettacolarità e realizzazione. Il presepe di sabbia in piazza Miani. Sotto l'attenso struttura che li ospiterà si sta già lavorando alla cremente da alcuni giorni per realizzare come avviene d'estate in spiaggia con le formine dei mega stampi giganti con la sabbia bagnata e pressata per permettere poi agli artisti di realizzare le loro opere. Una gran bella novità che conosciamo in Italia in qualche città che la fanno al mare. Noi l'abbiamo voluta portare in centro. Una novità che parla d'arte quindi ci dice anche molto bene con la città di Fano fatta dagli artisti un po' del panorama nazionale perché vengono un po' da tutta Italia e quindi queste sculture di sabbia, Magic Sand, la sabbia magica, una sabbia artistica in questo caso che rappresenterà un presepe ma nella città di Fano perché avremo un bellissimo arco d'augusto e quindi vi invitiamo a vederla e già qualcosa si comincia a intravedere. Sei spettacolari sculture realizzate dai migliori artisti a livello nazionale ed anche da un rappresentante locale di questa forma artistica, una vecchia conoscenza per Fano TV, Roberto Mancini che da molti anni ogni estate realizza in spiaggia a Torrette una sua spettacolare realizzazione. Che cosa vedremo qua su? Vedremo una passerella dove si potrà entrare naturalmente a ingresso libero vari personaggi del presepe con annesso anche una parte del centro storico di Fano che effettivamente andrebbe messo sempre ecco perché siamo fanesi. Da un cumulo di sabbia nascono delle opere fantastiche. Certo, noi siamo orgogliosi di essere ospiti qui di Fano e abbiamo progettato appunto questo lavoro per andare a realizzare solamente con la sabbia e acqua in una località così importante diciamo e con la sabbia del mare. Noi siamo scultori da 15 anni e un po' di esperienza l'abbiamo fatta e lavoriamo insieme. uniti non solo nella vita ma anche nell'espressione artistica. Sì, sì, vogliamo condividere questa passione che abbiamo, che abbiamo iniziato tanti anni fa come tanti nostri colleghi. Con un po' di esperienza, un po' di fortuna siamo riusciti a fare di un hobby anche una cosa importante insomma.